Al grido di Viva Maria Immacolata è cominciata la processione dalla cattedrale dell'Immacolata Concezione che per la Chiesa Cattolica, infatti, ogni essere umano nasce col peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente. L'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes e questa festività era già celebrata in Oriente nell'VIII secolo e venne importata in Italia dai monaci bizantini. Adesso, per dieci giorni, il simulacro dell'Immacolata resterà a San Francesco fino al 18 dicembre, quando poi ritornerà in cattedrale. C'è una devozione molto forte nel popolo santo di Dio sia nel popolo devoto che segue, ma anche, direi, a livello sociale perché la festa solennità dell'Immacolata segna l'inizio del clima natalizio onorando la Vergine Maria Immacolata, degna di mora del figlio che sarebbe nato da lei per virtù dello Spirito Santo. Il nostro popolo dall'antichità, diciamo, ha sempre onorato Maria con grande rispetto anche nelle tradizioni orientali. Ci sono bellissimi canti alla Teotocos, alla Maria, madre di Gesù, madre di Dio. E noi non siamo da meno nelle nostre tradizioni popolari. Ogni giorno qui cantiamo la novena all'Immacolata con canti siciliani. Per esempio c'è Dio salvi regina, signora immacolata, voi siete l'avvocata dell'arma mia. Ci sono espressioni che sono certo figlie del tempo, datate possiamo dire, però che esprimono i sentimenti profondi di amore e di devozione a Maria, che ha il suo ruolo di mediatrice delle grazie, l'avvocata, con lei che ci difende davanti al suo figlio, che ci invita alla conversione, al cambiamento della nostra vita. Diciamo che si fa compagna nostra in questo tempo dell'Avvento. Maria, porta dell'Avvento, nostra sorella in questo cammino. Grazie a tutti.